Oggi come Comitato Acqua Bene Comune abbiamo deciso di non indire nessuna manifestazione pubblica, presidio pubblico qui al Comune di Gosaldo, abbiamo soltanto deciso di essere presenti e rilasciare alcune dichiarazioni relative alla vicenda della Valle del Mese e di quello che sta accadendo. Quindi diciamo da subito che non saliremo nemmeno in Consiglio Comunale, ma finita questa conferenza stampa ritorneremo nel Fosno Valle. Questa decisione è stata presa collettivamente e unitariamente molti giorni fa perché abbiamo deciso che quello che ci interessava sostanzialmente oggi non era dare visibilità a questo Consiglio Comunale, ma dare visibilità invece alla decisione che è stata presa dai frazionisti di TISER, frazionisti che nella precedente assemblea non hanno votato a favore del cambio di destinazione d'uso dei terreni. Per cui noi siamo estremamente soddisfatti di questa decisione, una decisione che va in controtendenza rispetto a quelle che sono le volontà espresse fino a questo momento dall'amministrazione comunale. Oggi quello che è importante è dare visibilità alla decisione dei frazionisti. Tornando però, la seconda motivazione per cui noi non andiamo su oggi in Consiglio e non metteremo in campo nessun tipo di protesta è perché da sempre noi come Comitato Acqua e Beni Comune abbiamo sempre scelto collettivamente e autonomamente quando intervenire nelle forme più consome per noi e rimedichiamo questa autonomia e quindi non rispondiamo alle sollecitazioni che da più parti ci sono venute, che ci sollecitavano, ci domandavano cosa fare. Noi rispondiamo solo alla nostra volontà e non alle esigenze mass-mediatiche o dei giornali. Per cui oggi decidiamo di dare peso a quello che dobbiamo dire e non alle iniziative che dobbiamo mettere in campo. Partiamo però dicendo alcune cose. Noi come Comitato Acqua e Beni Comune rivendichiamo in toto l'iniziativa che è stata fatta nel presente Consiglio Comunale un'iniziativa che è stata fatta collettivamente e portata avanti collettivamente e per cui non abbiamo niente di cui vergognarci o rimproverarci. è stata la giusta reazione rispetto a una maggioranza che si è rifiutata di spiegare alla cittadinanza presente quello che stava succedendo in Consiglio Comunale. La risposta del sindaco che ci ha detto andatevi a leggere la delibera penso che sia alquanto descrittiva e eloquente di quella che era la situazione. Per cui noi abbiamo preteso in maniera energica e determinata che il sindaco, come ha fatto poi successivamente, spiegasse quello che era accaduto. Tanto è vero che quando poi ha deciso di confrontarsi con noi c'è stato un dibattito, un dialogo con toni pacati e alla fine ognuno è tornato dalle proprie stade. Per cui se quel giorno là il sindaco da subito avesse costruito un dialogo con noi non ci sarebbero state quelle contestazioni che poi si sono verificate. Diciamo anche che ovviamente quello che è successo nei giorni a seguire non ha niente a che vedere con le iniziative del Comitato Acqua Bene Comune. In questi giorni ci sono state fatte delle illazioni con due fatti accaduti. Uno che riguarda un danneggiamento di un mezzo per quanto riguarda di un macchinario per quanto riguarda l'impianto sulla gosalda e ultima di questi giorni la lettera di minacce all'avvocato Paniz. Noi come Comitato Acqua Bene Comune non abbiamo niente a che fare con entrambe le iniziative perché come sempre è stata a prassi il Comitato Acqua Bene Comune nella sua autonomia decisionale e anche nelle sue battaglie che ha portato avanti più o meno radicali con mezzo più o meno determinati ma l'ha sempre fatto alla luce del sole non vergognandosi mai delle proprie iniziative e da sempre non faranno mai parte delle nostre pratiche iniziative di questo tipo. Vorremmo anche però dire due cose rispetto alla lettera che i sindaci della Gordino hanno fatto nei nostri confronti. Noi saremo dalla parte dei sindaci e siamo dalla parte dei sindaci nel momento in cui questi sindaci avranno un atteggiamento determinato, corretto, trasparente e limpido nei confronti di quello che sta accadendo nella provincia di Belluno. Non abbiamo ancora mai purtroppo letto un documento unitario dei sindaci che si scontrano contro lo sfruttamento idroelettrico che sta avvenendo in questa provincia. Quando leggeremo un tale documento allora saremo anche noi ad applaudire i sindaci perché ricordo che il Comitato Acqua Bene Comune in questi anni non solo ha costruito mobilitazioni sociali di ampia partecipazione con migliaia di persone in piazza, ma ha raccolto firme, ha promosso sit-in, è andato in tutti gli ambienti istituzionali a parlare di quello che sta accadendo in provincia di Belluno e dalla politica fino a questo momento abbiamo trovato, a parte pochissimi e rari casi virtuosi, abbiamo sempre trovato dei muri nei nostri confronti. È chiaro che quindi la politica deve cominciare a responsabilizzarsi e a cominciare anche in maniera determinata a prendere in considerazione le istanze che migliaia di persone stanno portando avanti e che dicono basta lo sfruttamento idroelettrico nella provincia di Belluno. Quando questo cadrà noi saremo dalla parte dei sindaci. Solidarietà da parte del Comitato all'Avvocato Panezzi. D'altra parte quello che ha detto Paolone è la verità, il Comitato si è mosso da sempre su altri piani e quindi non abbiamo bisogno di difendere il nostro operato. Però il rammarico è che l'Avvocato Panezzi ha evidentemente un livello di antologia tale che gli consente di assumere mandato da una parte quando nel suo studio c'è chi ha assunto il mandato per la parte avversa. Questo non possiamo non rimarcarlo e questo ci teniamo a dirlo. Grazie a tutti.